Soltanto 15 giorni abbiamo avuto il piacere di tornare a respirare un'aria pulita e l'incubo è riniziato a tutto spiano. Una notte trascorsa al freddo con una copertura di fortuna dinanzi ai cancelli delle fonderie Pisano di Fratte non frena la rabbia di Martina Marraffa, la neuropsicologa salernitana che da ieri è in presidio dinanzi allo stabilimento che produce Ghisa in Via dei Greci. La Regione Campania ha dato l'ok alla riapertura dello stabilimento dopo i controlli e le verifiche dell'ARPAC per accertare il rispetto delle norme ambientali dopo l'interruzione dello scorso 22 febbraio su disposizione della Regione che ne contestava la dispersione di materiali tossici. La decisione che ha scatenato la protesta dei residenti e del Comitato Salute e Vita che da tempo portano avanti una battaglia per la tutela della salute pubblica ha spinto Martina ad attuare un presidio in prossimità dello stabilimento delle fonderie Pisano. Io ritengo che dati i capi di accusa sia assolutamente impensabile, non lo ritengo io ma l'opinione pubblica è d'accordo che in 15 giorni sia assolutamente impensabile e impossibile procedere per la messa a norma di questi impianti e hanno fatto una sola cosa, hanno verniciato di notte quando nessuno li ha visti di nascosto con le bombolette spray e con i secchi di vernice. Sono andata a chiedere personalmente alla proprietà come mai l'avessero fatto di notte di nascosto? La risposta è stata ufficialmente siccome i salernitani sono degli ipocriti e degli stupidi vi piace essere presi per i fondelli e noi vi prendiamo per i fondelli. È decisa nonostante in tanti abbiano cercato di farla desistere da questo gesto a restare in presidio e non andare via fin quando non riceverà le risposte che pretende. Tra rabbia e commozione ha spiegato che lo fa in memoria dei suoi cari scomparsi. Sono 10 i casi di tumore, tutti i familiari di Martina, tutti i domiciliati nella stessa strada quella dei tumori che per 5 di loro ha significato la morte. Io so che c'è stata un'azione per 50 anni a dir poco criminale. Ci sono stati bruciati in questa fabbrica materiali di ogni genere e tipo da cingoli di cari armati all'amianto, al nucleare e alla droga, nella natura c'è la risposta. Basterebbe fare delle indagini serie ed accurate dell'acqua e del suolo per dimostrare la presenza tutt'oggi di questi materiali. Non è stato fatto, l'ARPAC di Salerno è stata commissariata in quanto è arrivata l'ARPAC di Caserta e ha visto che non c'era neanche l'attrezzatura per poter salire e montare i loro dispositivi e invece in 15 giorni hanno detto che la domanda che io pongo è un'altra. Sono stati commessi dei reati, la magistratura li ha accertati. Com'è possibile che non vengono arrestati? Cioè se io ora entro in un supermercato e mi rubo una brioscina, pago perché qui c'è un reato ambientale di questa portata, ci sono morti e leucemie da brividi e nessuno dice niente. Io voglio sapere, faccio un appello. Vincenzo De Luca, finché non vieni qua, io da qua non mi muovo. La notte ci stanno zero gradi, io da qua non mi muovo a costo di morire perché tanto sono morta già, tanto mi avete ucciso già, tu e Calabrese, finché non venite qua e non mi rispiegate la verità e non sciogliete il segreto su quegli atti. Voi e la magistratura mi dovete portare sulla coscienza perché tanto morirò, però muoio qua avanti. Muoio qua avanti, la colpa è vostra. Grazie a tutti.